Per me è stato un sogno che si avvera, forse ad oggi ancora non me ne rendo conto e le sensazioni sono state subito positive. Dopo il discorso del mister e di Buffon comunque ho visto tutta la squadra molto motivata e determinata così come loro stessi appunto vogliamo accantonare un po' il periodo passato però tenendo conto degli errori commessi per non ripeterli e adesso tocca a noi dobbiamo cercare di onorare la maglia e quindi ce la metteremo tutta. Le caratteristiche penso che il mister abbia valutato come detto in conferenza stancho ieri la corsa, la duttilità, la professionalità, la serietà e penso che io possa agire da mezzala o comunque in un ruolo del centro campo. Penso che serva qualcosa da ognuno di noi, mettere in campo le nostre qualità e cercare in questo breve tempo di compattarci a livello di squadra anche se siamo alcuni nuovi, portando in alto i valori che ha sempre messo l'Italia sul campo, ovvero l'unione, la forza, la coesione e poi ovviamente le individualità personali. Quindi penso che in nazionale forse per incidere ognuno di noi deve mettere qualcosa in più perché appunto di tempo non ce n'è quindi bisogna crescere in fretta e giocarsela a viso aperto.